3, 2, 1, via! Evviva! Assessore, un punto di riferimento per gli elettori del centro-destra in pieno centro storico. Si comincia veramente la campagna elettorale? La campagna elettorale è giusto che si inizi veramente perché è giusto che i cittadini abbiano tutte le informazioni possibili su chi sono i candidati, su cosa propongono per la città, quali sono le coalizioni che li sostengono, aprire un punto proprio qui in centro come Luca Serfilippi sta facendo stamattina credo che sia particolarmente importante ma è altrettanto importante quello che Luca sta facendo in queste ore cioè sta girando tutti i quartieri uno per uno a incontrare tutti i cittadini quindi perfetta una sede qui in centro come punto di riferimento ma altrettanto prezioso il lavoro che Luca sta facendo nel girare tutte le frazioni e tutti i quartieri di Fano. Come verrà gestita questo punto di incontro? Sì, oggi inauguriamo questo spazio di incontro, di ascolto, di condivisione con i cittadini qui in piazzetta Ugo De Pili di fianco al Caffè delle Scienze sarà uno spazio aperto da lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 in cui i cittadini potranno confrontarsi, ascoltare e noi abbiamo l'occasione di incontrarli, fare delle riunioni è la sede della coalizione per Fano, tutti i partiti di centro-destra, le liste civiche che mi stanno sostenendo avranno questa sede di ascolto dei cittadini. Devo dire che sto riscontrando un grande entusiasmo, quindi non mi interessa chi vincerà le primarie del centro-sinistra perché diciamo che il calore della gente mi dice che vinceremo il primo turno quindi sono contento di quello che stiamo facendo, c'è tanta voglia di cambiamento, noi siamo il cambiamento c'è tanta gente che ci chiede un cambio di passo, quindi ho detto oggi ai candidati, a tutti i simpatizzanti che sono corsi così numerosi che ci sarà da rimboccarsi le maniche.